Buongiorno a tutti, io sono Lucia Rosca e nella vita faccio l'estitista. Ho deciso di partecipare perché ho sentito il richiamo fortissimo e ho deciso di essere qua. Di questo evento in particolare mi ha colpito giocare insieme, divertirci, lavorare, è il gruppo, l'emozione che si crea nel gruppo e la sinergia che si crea con le persone che ci sono nel gruppo. Allora, grazie a questo evento in me sono cambiate tante cose. La più importante è quella di aver scoperto alcune cose che avevo, tipo talenti che avevo da bambina, che non me ne ricordavo più. In questi giorni ho imparato a essere me stessa, ad aprirmi al mondo, alle nuove conoscenze, a giocare. Ho scoperto di avere un talento, che è quello di recitare e voglio iscrivermi a un corso di recitazione. La prima cosa che faccio quando torno a casa, oltre a posare la valigia, è iscrivermi a un corso di recitazione. Stupefacente! Grazie Patrizia, la voglio ringraziare veramente di cuore, perché mi ha dato questa opportunità e mi ha fatto scoprire tante cose belle che ho dentro e non sapevo più di avere. Grazie Patti! Grazie a tutti!